Buon pomeriggio amici del toro, come vi avevo promesso anche per voi c'è il vostro oroscopo mensile ottobre 2021. Insomma, ci sto riuscendo, sono in tempo, tutto oggi massimo massimo insomma domani. Allora amici del toro, benissimo, e duretta un po', eh? Il vostro mese di ottobre si prospetta con un periodo carico di stress molto difficile per voi da gestire. Dovete stare attenti chiaramente alle vostre finanze perché essendo un periodo di stress forse siete concentrati più su altre cose e non su quello che dovevate o dovete dare importanza. Insomma, avete fatto degli errori, quindi occhio, ripeto, alle vostre finanze e state attenti. Non trascurate la famiglia perché le carte mi dicono che vi state dedicando troppo al lavoro e quindi state trascurando la famiglia o il partner per chi chiaramente è in coppia. Per voi, o meglio per altri di voi forse è meglio, state investendo troppo tempo, cioè state... Il vostro obiettivo più che altro è investire il tempo in una relazione, in un qualcosa che riguarda in una situazione che probabilmente dovete sistemare, dovete chiarire e quindi vi sta sottraendo del tempo e dell'attenzione da quelli che sono magari le cose più importanti nella vostra vita. Dovete ritrovare comunque il vostro equilibrio e dovete ritrovare anche la vostra stabilità. Quindi in questa prima settimana di ottobre vi raccomando, occhio alle finanze, se la relazione in cui voi state perdendo di vista altre cose importanti e vi state concentrando in questa relazione non vi porta da nessuna parte, mollate, lasciate stare, riprendete in mano la vostra vita chiaramente riguardando un attimo il vostro equilibrio e la vostra stabilità, quello che avete comunque sia sempre avuto. Dovete dare inizio a qualcosa di nuovo, quindi dovete riflettere tantissimo sulle vostre azioni e usare i vostri talenti perché ne avete tante, vi dovete fidare del vostro intuito e per voi ci sarà un messaggio positivo delle buone notizie anche dal campo familiare quindi qualche familiare vi potrà dare qualche notizia o eventualmente riceverete delle notizie positive da qualche altra persona e ci sarà un evento positivo nella vostra vita, un qualcosa di bello, un qualcosa di nuovo e sarà per voi un qualcosa di inaspettato, un messaggio, un qualcuno che vi proporrà qualcosa quindi può essere una proposta che può riguardare, ripeto, sia il campo relazionale che il campo lavorativo. Verso la metà di ottobre vi vedo chiusi diciamo che questa chiusura probabilmente si andrà a intensificare perché voi partite già con l'inizio del mese un po' resti quindi siete in chiusura, sarete o meglio ecco in chiusura per alcune questioni o alcune situazioni come se non vi sentite pronti ad affrontare un evolversi di una situazione che vi sentite chiusi non so di fronte magari a una proposta di matrimonio oppure all'aver saputo, l'aver scoperto di essere rimaste incinte oppure per i maschietti insomma chi diventa papà o probabilmente anche su altro genere di situazioni che possono comunque riguardare anche insomma il lavoro perché voi pensate che forse queste situazioni possono generare delle problematiche però anche se vivrete ok un blocco ci può essere questo qualcosa che quindi vi può far ribaltare completamente la situazione come vi ho detto il famoso messaggio inaspettato o l'evento inaspettato che può modificare la vostra situazione avrete delle difficoltà nel dover prendere delle decisioni e ripeto siete bloccati quindi vi dovete mettere lì a riflettere e a pensare bene prima di prendere insomma decisioni affrettate e anche se vi trovate in situazioni dove magari vi sentite minacciati o sono per voi delle situazioni negative andate avanti ritrovate il vostro perfetto equilibrio perché voi comunque sia siete un segno dove l'equilibrio lo ha riflettete tantissimo per poi essere pronti a dover decidere almeno le situazioni negative che si presenteranno che state già iniziando a vivere o che si presenteranno nel mese di ottobre per fortuna termineranno però ripeto le decisioni vanno prese sono importanti e fondamentali non soltanto le decisioni come anche il riflettere prima di prenderle proprio per evitare come vi ho detto prima vi ribadisco di prendere decisioni affrettate occhio a questo anche perché comunque non è da voi prendere delle decisioni affrettate dovete cambiare atteggiamento dovete aprirvi di più dichiarare quelli che sono i vostri sentimenti che sia nel campo relazionale quindi amoroso affettivo che sia anche nel lavoro o negli affetti personali come la famiglia gli amici non tenete chiusi dentro di voi quello che magari provate o un'emozione magari bella che state provando quindi apritevi e il vostro infatti è un problema emotivo perché siete chiusi non riuscite ad esternare magari quello che state provando e quindi questo sentirsi chiusi bloccati non riuscire ad aprirsi può generare chiaramente tutte le cause che in questo momento state affrettando non vi dovete fare più carico dei problemi degli altri quindi dovete pensare a voi e dovete pensare a quello che voi avete dentro questo periodo sicuramente finirà quindi vi lascerete alle spalle tutto quello che è di negativo quello che non va bene che non vi fa più bene non vi farà più bene e lo farete anche senza avere rimorsi perché in voi in questo mese avverrà una grandissima trasformazione infatti in amore ci sarà un forte cambiamento si romperanno degli equilibri oppure per chi è in relazione dove le cose non stanno andando bene può essere la fine decisiva della relazione invece in altre situazioni per altri di voi ci potrebbe essere un chiarimento chiarimento definitivo dove porterà a cambiare completamente il tutto e quindi a riprendere la relazione sotto però un altro punto di vista con nuove prospettive e così è anche sul lavoro riuscirete quindi a superare tutti gli ostacoli per iniziare questo nuovo percorso io ringrazio tutti gli amici del toro si vado un po' di corsa perché ho da fare come ben sapete tutti gli altri gli altri segni dell'oroscopo mensile e io vi auguro comunque sia una buona giornata un buon pomeriggio un buon proseguimento di fine settimana quasi per fortuna domani e venerdì e in più ricordo a chi chiaramente è già iscritto al canale di commentarmi fatemi sapere e chi è nuovo che passa di qui ad ascoltare insomma il video di sempre iscrivervi al canale spuntare la campanellina e per il nuovo è quello già iscritto se avete bisogno di una qualsiasi informazione potete tranquillamente avete i miei due numeri di telefono sulla voce informazione potete tranquillamente scrivermi in whatsapp dove io vi risponderò senza senza problemi chiedetemi qualsiasi cosa non vi preoccupate cioè chiedere non significa pagare quindi state tranquilli non c'è veramente non vi preoccupate una qualsiasi domanda qualsiasi cosa voi volete informazione inteso domanda come informazione siete liberissimi comunque di farlo appena possibile poi vi rispondo e di solito io sono anche veloce in queste cose vi auguro un buon tutto vi raccomando ragazzi amici del toro ragazzi chiaramente ragazze inteso in generale riflettete tantissimo e decidete bene per poter intraprendere per voi questo nuovo cammino nuovo percorso questa bella trasformazione che per voi è in vista ma non avevamo dubbi amici del toro perché comunque sia voi sarete forti per poter proseguire e andare avanti un bacio ho visto che mi spunta una cornice ragazzi a tutto insomma ok un bacio grandissimo e a presto ci sentiamo un bacio